Buonasera a tutti, sono Simona Bernabei, sono il referente pedagogico regionale e twinning. Oggi, come dicevo, ci troviamo qui per parlare di twinning e l'attivazione della classe a distanza per la secondaria di secondo grado e un livello base. Saranno con noi Simone Bionda e Milena Lato, Barbara Furesi non è con noi perché ha avuto un impegno improvviso con la scuola e quindi i nostri valenti Simona e Milena, che sono ambasciatori di twinning per la Toscana, che poi presenterò un po' più dettagliatamente, condurranno questo seminario. Un po' di informazioni prima di iniziare, innanzitutto relative proprio al nostro programma di webinar. Noi abbiamo un programma di webinar che prevede tutta una serie di eventi relativi all'utilizzo di twinning come piattaforma per la didattica a distanza e questo programma lo vedete ripetuto ovunque sui nostri social, comunque è stato già inviato dalla dottoressa Cecchi che è qui con noi ed è il referente istituzionale di twinning presso USR. Dicevo la dottoressa Cecchi l'ha inviato alle vostre scuole e suppongo le vostre scuole l'abbiano girato a voi. Noi comunque siamo sempre raggiungibili sia su Facebook che sul canale YouTube, quindi chi ci segue su Facebook vedrà degli aggiornamenti ogni volta, di volta in volta. diciamo che l'idea, l'intento di questo programma è quello di parlare e ragionare sulla didattica a distanza utilizzando gli strumenti che ci mette a disposizione i twinning che consente di unire su un'unica piattaforma tutta una serie di funzioni utili e ottime per la didattica a distanza. Questo è un momento in cui chiaramente la tendenza è quella, ovviamente tutti stiamo lavorando a distanza, questo è chiaro. Il problema è a volte quello di diluirsi in una serie di strumenti differenti, cosa che francamente anche da un monitoraggio con i ragazzi è piuttosto ridondante se non negativa, i ragazzi hanno bisogno di un messaggio chiaro e che arrivi da, possibilmente da un'unica fonte e il training offre la possibilità di fare questo, ne parleranno Simone e Milena. Vi invito a tenere d'occhio il programma perché ci saranno altri incontri dedicati ad altri ordini di scuole, ma anche un incontro, vi sarà un incontro per la secondaria di secondo grado avanzato, di livello medio avanzato il 27 aprile prossimo chiaramente e poi ci saranno altri incontri dedicati alla scuola, sempre alla scuola primaria, ne abbiamo già fatto un altro di livello base, ne faremo un altro di livello avanzato e poi ci sarà un incontro per la scuola media, quindi per la scuola secondaria di primo grado già lunedì 2 aprile, no vedete che ho messo quello sbagliato, scusate questa è veramente una gaff, vabbè ormai che ci siamo vedete che qui si riporta un lunedì 2 aprile e un giovedì 6 aprile invece a un giovedì 2 aprile e un lunedì 6 aprile, ho caricato una versione cercando in corsa questo documento da condividere con voi, comunque basta che voi al 3 e al 4 mettiate al 3 un giovedì e al 4, un lunedì e mi scuso naturalmente per questo, lunedì 6 aprile avremo dicevo un incontro dedicato alla secondaria di primo grado di livello base, quindi questo sarà il prossimo incontro, detto questo forse qualcuno di voi ha seguito il tentativo di webinar che abbiamo fatto sui bisogni speciali con OSR Toscana che è stato interrotto perché c'erano grossi problemi di collegamento, anche quello verrà ripetuto e tutti questi eventi verranno registrati e poi condivisi con voi attraverso il canale YouTube e Twin in Toscana. Per quello che riguarda il prosieguo dello stop dalla scuola, sarebbe nostra intenzione organizzare altri momenti di incontro qualora il periodo di sospensione delle attività didattiche e chiusura della scuola si dovesse protrarre oltre un ipotetico inizio maggio e comunque avremmo modo di parlarne. Vi segnalo il nostro progetto e Twin in Toscana a distanza di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, vi segnalo anche che è un progetto italiano, nasce da parte del gruppo e Twin in Toscana ma si vuole sviluppare come supporto e sostegno alla didattica a distanza per i docenti e Twin in che non abbiano attivo un progetto ma che vogliano lavorare con una propria classe all'interno di Twin in potranno contattarci e noi li inviteremo all'interno del progetto. Altra cosa che vi voglio segnalare è sul sito dell'ufficio scolastico regionale una sezione dedicata alla didattica a distanza che chiedo la cortesia a Daniela Cecchi alla quale chiedo la cortesia di scrivere l'indirizzo preciso in chat per cortesia ed è, io ve lo sintetizzo molto rapidamente, sarà un punto di segnalazione e anche di individuazione di buone pratiche e di attività relativi alla didattica a distanza e noi come gruppo toscano siamo stati inseriti troverete anche lì le nostre registrazioni ma troverete indicazioni anche su questo nostro progetto Twin in Toscana a distanza e relativo a tutte le nostre attività. Ultima cosa che vi dico e che è importante prima di passare la parola a Simone Bionda, grazie mille, l'ha fatto Riccardo www.didattica a distanza.dad-usrtoscana.it lo ripeto www.didattica.it e all'interno troverete via via, chiaramente è un nuovo sito quindi troverete via via materiali che arricchiranno l'offerta. Per quello che riguarda il foglio delle presenze e il foglio delle domande, come sempre chi è con noi o chi è stato con noi altre volte sa che, e si Daniela Cecchi sta aggiungendo il link diretto per la sezione Twinning, grazie Daniela, ringrazio ovviamente anche Riccardo. Dicevo vi metterò in chat il foglio per le presenze, vi chiedo la cortesia di non scrivere domande di carattere didattico, quindi relative ai contenuti di cui sentirete raccontare i nostri Simone e Milena, ma di scriverli sul foglio che linkerò in chat, adesso ho il tempo di dare la parola e mi attiverò in questo senso. Per il resto vi auguro buon ascolto e passo la parola immediatamente a Simone che presento naturalmente. Simone è un ambasciatore e Twinning per la Toscana e è un docente di lingua straniera, insegna lingua e cultura spagnola all'educandato statale Santissima Annunziata a Villa del Poggio Imperiale a Firenze, un fortunato docente di quel bellissimo, meraviglioso posto che si trova a Firenze, è un docente molto attivo nell'ambito della didattica delle lingue, collabora con LEND che i docenti di lingua straniera sicuramente conoscono e si occuperà stasera insieme a Milena che poi presenterò sia della piattaforma che vi farà vedere, e questo secondo me può essere davvero un elemento di maggiore interesse, vi farà vedere come utilizza la piattaforma con i propri studenti. Quindi insomma davvero per qualsiasi tipo di domanda poi vi rimando al foglio di cui vi parlavo. Buon ascolto, mi taccio, non ho neanche attivato la webcam, lo faccio perché mi sembra, mi sono truccata apposta oggi, quindi vi auguro una buona serata e passo la parola a Simone. Sì, buonasera, mi sentite? Simona si sente? Sì, ti sentiamo benissimo, sì assolutamente. Io levo il mio file, il mio insomma il programma se vuoi carico io, che poi credo che sia lo stesso, se tu... No, l'ho già messa, c'era un attimo fa. Sì, sì sì, no ma è sempre... Sì, allora è finale, vero? Brava. Ok. Ok. Finale è io torto. Vai. Ok. Lui, grazie. Grazie. Bene, allora, buonasera a tutti. Questa sera parliamo di, come ha appena detto Simona, di didattica a distanza sicuramente, che è la cosa che ci interessa in questo momento, che ci accomuna in questa situazione veramente fuori dall'ordinario, veramente particolare. E parliamo ovviamente di e-tweening come mezzo per praticare, per mettere in pratica la didattica a distanza. Sicuramente per chi, anche se questo è un webinar di livello base, è stato indicato come webinar di livello base, se siete qua oggi, perché comunque avete un profilo, perché siete dentro i-tweening e non siete nuovi alla piattaforma, che abbiate già effettuato dei progetti o meno conoscete già un pochino l'ambiente. Per noi, i twinners, forse l'impatto con la didattica a distanza è stato meno traumatico rispetto ad altri docenti, perché in fondo, pur prevedendo la possibilità di lavorare molto con i ragazzi in classe, un progetto di twinning, comporta la possibilità di effettuare normalmente, senza problemi, una parte della nostra didattica a distanza, lasciando autonomia ai ragazzi. Quindi, da un lato, chi è abituato ad utilizzare la piattaforma non ha potuto che trarne beneficio. Bene, magari dirò delle cose ovvie, ma appunto perché essendo un livello base vorrei veramente sottolineare alcune delle cose che per me sono importanti in riferimento alla piattaforma. La prima è l'idea di comunità, comunità che condivide molte cose, quindi pensando ad un insegnante come siamo noi in questi giorni, con questa situazione, con la necessità di portare avanti quella che è non solo la nostra programmazione, ma soprattutto un contatto con i nostri studenti che abbiamo perso da un contatto visivo, fisico, quotidiano, improvvisamente, e per i quali ci siamo dovuti adattare, ad affrontare una didattica completamente nuova. Bene, questo problema ovviamente nella drammaticità, è vero che il concetto di malcomune e mezzo gaudio non consola, non sempre, almeno, soprattutto in questo caso, però ecco, nella drammaticità della situazione, una cosa che da un lato mi fa, ecco, mi consola in parte, è questo, sui twinning il problema di cui stiamo parlando lo condividiamo con altri colleghi in tutta Europa, quasi 800 mila, e il problema legato alla didattica a distanza che stiamo affrontando lo sta vivendo come noi, lo stanno vivendo più di 200 mila scuole in Europa, di quelle collegate che lavorano con i twinning regolarmente. E ci sono in corso progetti, più di 100 mila progetti che si sono trovati a questo punto dell'anno attivati in funzione e che devono adattarsi a questa nuova metodologia di lavoro, inevitabilmente. La cartina iniziale che abbiamo nella schermata di twinning.net ci indica quali sono i paesi coinvolti dai twinning e per gran parte di questi, ahimè, corrisponde anche a quella che è la cartina che in questi giorni vediamo quotidianamente sui giornali e ai telegiornali in riferimento alla pandemia. E quindi diciamo che è quella che riflette la zona geografica che appunto condivide la nostra situazione al momento. La caratteristica fondamentale di twinning, come sapete, è quella di permettere il lavoro su progetti, la didattica progettuale. E spesso a noi, non solo a noi gruppo di ambasciatori, formatori, ma penso che capite anche a molti di voi, quando si parla di twinning tra colleghi, spesso ci sono colleghi che chiedono, sì ma i progetti, lo spazio per i progetti, dove lo trovi, come fai a portare avanti il programma, vabbè, insomma, la tua progettazione di inizio anno e come fai a trovare tempo anche per il progetto. Ecco, in questa situazione particolarmente difficile mi rendo conto che quest'anno posso darmi una pacca sulla spalla e dire, beh, ho progettato bene, nel senso che se penso ai progetti che ho attivato quest'anno, mi rendo conto che effettivamente li ho inseriti all'interno della mia progettazione pienamente e che quindi non mi sto ponendo il problema come posso utilizzare i twinning per portare avanti una didattica a distanza, no, proseguo con i miei progetti, due di questi diciamo e lo posso fare e nel frattempo in parallelo ne ho preso parte ad altre attività che adesso vedremo insieme ai colleghi qua presenti, colleghi ambasciatori qua presenti e anche con altri colleghi. Quindi l'attività progettuale ci può servire in questo momento proprio perché ci troviamo a lavorare di settimana in settimana, quindi paradossalmente è la cosa che a mio parere in questo momento sarebbe importante fare, progettare di settimana in settimana un obiettivo, un passo, una tipologia di lavoro, di strumento utilizzato per arrivare a portare avanti competenze con i nostri studenti nel corso di tutto l'anno. Sperando, come diceva prima, Simona, di poter tornare il prima possibile in classe. Per lavorare su progetti con i twinning procedo, sperando che non siano cose troppo scontate ma invece di interessare chi fosse alle prime esperienze. A questo punto dell'anno, in questa situazione per la didattica a distanza posso muovermi in tre direzioni. Posso lavorare o con progetti attivi che ho già, ossia li posso adattare a questa situazione e vedremo come si può fare. In alternativa posso cercare un progetto nuovo, numero 2 che ho indicato in questa slide. Posso trovare un progetto appunto a cui iscrivermi o nel caso proprio nessuna delle due opzioni mi vada bene, posso creare un nuovo progetto, la terza opzione. Ho più tempo a disposizione? No, lo sappiamo tutti, non è vero. Siamo oberati dal lavoro ancora più di prima, però ho una diversa disposizione delle mie ore nel corso della giornata, magari posso decidere di iniziare un nuovo progetto, trovare nuovi partner. Quindi questa è una delle opzioni. Un paio di esempi, non per essere autoreferenziale, ma perché siamo qua chiamati oggi a darvi alcuni esempi di possibilità o di quelle che noi consideriamo buone pratiche al momento. Spero si veda, per non rallentare il collegamento ho messo degli screenshot delle mie pagine e ho evitato la navigazione sincrono, quindi spero che si riesca a vedere. Ho qua alcuni esempi di modi per poter lavorare in didattica a distanza. Il primo punto che ho indicato prima è quello di un progetto già attivo, dell'applicare la didattica a distanza in un progetto già attivo. Ho qua uno dei miei per fare un esempio. Ecco, era quello che dicevo prima. Nel momento in cui all'interno della mia programmazione curricolare ho già inserito un progetto che mi serve a sviluppare alcune parti del programma, come in questo caso un progetto sul Museo del Prado che quest'anno festeggia il suo bicentenario. Io utilizzo con una classe per fare l'argomento di storia dell'arte, diciamo, di Velázquez, di Goya, del periodo storico corrispondente e quale modo migliore per organizzare un progetto che pensavamo sviluppato da un punto di vista vero e proprio, perché avevamo progettato e anche già organizzato un viaggio a Madrid, purtroppo, e anche dal punto di vista virtuale, lavorare a livello virtuale. Ecco, il fatto di aver impostato un progetto di questo tipo fa sì che a questo punto dell'anno, vista la situazione, verterà soprattutto sull'aspetto virtuale, ma indipendentemente dalla finalità, dagli strumenti e dagli obiettivi, la mia programmazione di arte, di storia e di letteratura collegata all'argomento la porterò avanti normalmente, come avevo previsto. Quindi ho informato i ragazzi di questa cosa, le famiglie anche, sanno che per quella classe la mia materia almeno non subirà variazioni a grandi linee, ma riusciremo più o meno a seguirlo, a seguire quanto prefissato. Un'altra possibilità è quella, ad esempio, di appunto accedere ad un nuovo progetto e dopo vi farò dare un'occhiata al progetto di cui parlava prima Simona Bernabei, Twinning Toscana a distanza, che abbiamo creato appena iniziata l'emergenza, agli inizi di marzo, appena la scuola a chiuso come gruppo Twinning Toscana abbiamo deciso di creare questa possibilità per coloro i quali non avessero alternative, soprattutto inizialmente con piattaforme scolastiche. Sappiamo che non tutte le scuole disponevano dei vari Google Suite, di Microsoft e che si sono attivate nei giorni successivi alla chiusura. Quindi questa era un'ottima possibilità e lo è tuttora. Dopo vi farò vedere le potenzialità di questo progetto. Oppure come terza opzione posso, vi ho detto, posso creare un progetto io. Allora in questo caso posso scegliere di cercare un progetto già attivo o più che altro nel forum dei partner un progetto in creazione. All'interno del forum ci sono colleghi che stanno cercando appunto insegnanti disposti ad unirsi ad un nuovo progetto e quindi posso unirmi ad un insegnante che lo sta organizzando oppure lo posso creare io da zero. In questo caso posso fare riferimento al kit e progetti che sono disponibili sul sito. I kit analizzano progetti passati che hanno avuto successo, che hanno avuto esito con i ragazzi, che hanno portato dei buoni risultati e sono stati analizzati, destrutturati, divisi in punti da seguire e rappresentano proprio dei veri e propri kit che seguiti punto per punto permettono di creare un progetto da zero arrivando dall'inizio alla fine in tutta sicurezza anche se è il nostro primo progetto. Quando cerco sul forum ho la comodità di trovare già i progetti divisi per fasce d'età e tipologie d'utenti diciamo. Qua essendo oggi un webinar per la secondaria di secondo grado ho inserito solo quelle che ci riguardano, il gruppo che riguarda gli studenti dai 12 ai 15 oppure il triennio dai 16 ai 19 anni. Poi ci sono quelli generali nei quali la fascia d'età non è così importante e infine abbiamo la possibilità di trovare progetti Twinning Plus plus che sono molto interessanti perché riguardano quei paesi non europei ma vicini all'Europa, quindi i paesi che ho indicato qua, l'Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Tunisia, ho visto che ci sono alcuni partecipanti della Tunisia oggi, Ucraina, Giordania e Libano anche. Bene, pensate in una situazione come questa, nella quale sappiamo che molti di questi paesi si trovano nella nostra stessa situazione, pensate alle possibilità di confronto per i nostri studenti con gli alunni di queste scuole in un'ottica di paragone di come stiamo affrontando questa emergenza e come la stanno vivendo i nostri adolescenti chiusi in casa e con i mezzi che hanno a disposizione. Penso che sia una possibilità veramente molto interessante. Ho aperto, ho preso uno screenshot da uno dei forum proprio per vedere cosa potrei trovare se cercassi un progetto oggi. Purtroppo non si vede bene, mi spiace, però i titoli dei progetti che stanno cercando partner sono questi, Corona Diaries, How do you do in time of Corona Crisis, Newspaper about your country in English o ancora Social Connecting instead of Social Distancing. Sono, è vero, quattro su otto progetti che appaiono in questa schermata sono indirizzati a chi vuole affrontare questa situazione momentanea. Si può anche decidere di volerla invece evitare per parlare d'altro perché i ragazzi non girino sempre su quello, quindi si può ricorrere anche a progetti che abbiano contenuti proprio squisitamente disciplinari della nostra disciplina, quindi non necessariamente affrontare l'argomento coronavirus. Certo che in questa situazione in cui si trovano dal contesto classe immersi tra i loro coetanei ogni mattina, tutta la mattina, alla situazione dell'essere soli o comunque all'interno della propria famiglia, magari con dei coetanei ma in un ambiente completamente diverso, ecco l'aspetto metacognitivo del poter utilizzare un progetto anche per discutersi, mettersi in discussione, leggersi dentro, raffrontarsi e confrontarsi con i propri coetanei e con i propri insegnanti perché penso che anche voi ve ne rendiate conto che non solo perché attraverso il video adesso stiamo entrando nelle loro case quotidianamente, ma proprio perché ci parliamo e ci vediamo non più in classe ma dal nostro nido in questo momento, dalla nostra tana in questa situazione, quindi che ci piaccia o meno stiamo trasformando anche il nostro rapporto con loro in questo periodo, ci stiamo avvicinando, c'è uno sguardo diverso che ci unisce secondo me, quindi credo che dobbiamo anche essere capaci di affrontare insieme a loro questo momento con le nostre debolezze e con le loro, quindi è anche possibile secondo me poter parlare di qualcosa che non sia squisitamente appunto disciplinare, che non sia solo la materia. Abbiamo la possibilità di trovare qualcuno con cui osservare dalla finestra in attesa di tempi migliori, che non è solo un passare il tempo, è svolgere una parte di programma, mirare ad obiettivi condivisi e comuni. Bene, quando entriamo all'interno di un progetto, allora che sia un progetto che abbiamo, che sia un progetto che abbiamo creato per l'occasione, che sia un progetto al quale ci siamo uniti in questo periodo, abbiamo finalmente a disposizione un Twin Space, come qualcuno di voi sicuramente sa, con le pagine dedicate, con le parti che lo compongono. I punti che ho segnalato in questa slide sono appunto il primo, che riguarda le pagine, che all'interno di un Twin Space sono quelle che raccolgono, diciamo, l'organizzazione, la distribuzione del nostro lavoro, come l'abbiamo strutturato insieme ai nostri colleghi, in modo da sapere sempre come è suddiviso il materiale, dove si devono recare gli alunni per svolgere le varie attività. Il secondo punto indica invece la parte dei materiali, che è altrettanto importante, tutto il materiale che viene caricato in piattaforma e che entra, fa parte del nostro lavoro, viene poi raccolto automaticamente in tutto nella sezione materiali appunto, dove lo potremo ritrovare, recuperare, ripescare, soprattutto per eventualmente pensare a preparare un prodotto finale, nel quale andiamo a recuperare un po' di elementi per riassumere il lavoro svolto. Il terzo punto che ho indicato riassume due elementi molto importanti, pensando alla didattica a distanza, appunto, che riguardano la possibilità di comunicazione tra i ragazzi e con i ragazzi, che sono il forum e il meeting online. Il progetto che ho preso come spunto adesso, come ho indicato qui, è sempre il progetto di cui parlavo prima sul Museo del Prado. Come si può vedere dalla nota che ho accanto nella bacheca degli insegnanti, una delle scuole che fa parte del progetto lo ha ampliato proprio per affrontare la didattica a distanza al resto del collegio docenti, quindi soltanto pochi giorni fa, il 27 marzo ad esempio, si è giunta una delle insegnanti che ha spiegato perché vorrebbe unirsi al progetto insieme ai suoi colleghi, quale contributo potrebbe apportare come insegnante e spiega appunto che questa cosa potrebbe aiutarla ad avvicinare i ragazzi in questo momento che si trova spiazzata perché le manca il contatto quotidiano. Quindi i twinning al momento è anche una via di fuga, no, non rende l'idea, è una via di raggiungimento per raggiungere i nostri ragazzi. Eccoci qua. In progetti già attivi possiamo anche pensare di creare appunto di pagine dedicate alla didattica a distanza. Nell'altro progetto al quale prendo parte ad esempio nella zona delle pagine abbiamo dedicato ogni scuola, aperto una pagina dedicata alla teledocenzia, alla didattica a distanza, perché condiviso con scuole che come la nostra non disponevano ancora di una piattaforma ufficiale di comunicazione con la quale fare lezione. Quindi anche loro lasciati liberi di agire come volessero ed effettivamente ci siamo resi conto immediatamente che una piattaforma sicura, conosciuta e che ci dava la sicurezza di agire appunto in un territorio tranquillo e conosciuto era proprio il twinning. Quindi abbiamo deciso di svolgere una parte della nostra didattica a distanza utilizzando lo spazio del nostro progetto. Quindi sia che si tratti, eccoci qua, di qualcuno che si unisce a un progetto già esistente per poter svolgere questo tipo di didattica o che sia piuttosto un cambiare in corso d'opera, aggiungere attività in un progetto per far sì che questo possa aiutarci nella didattica a distanza, ecco questo ci dimostra quanto malleabile sia la piattaforma soprattutto in questo periodo. Un altro esempio appunto di come un progetto possa essere variato, possa essere un po' corretto è quello che abbiamo appena aggiunto nel progetto appunto del museo, nel progetto di arte. Visto che siamo già nella fase in cui, che riguarda l'aspetto virtuale del progetto, nella quale abbiamo chiesto ai ragazzi di iniziare a navigare, tra virgolette, all'interno del museo, approfittando della possibilità di visitare in maniera virtuale la collezione, le collezioni del museo, abbiamo chiesto di fare una seconda spedizione, una seconda immersione tra le collezioni. La prima l'hanno già fatta per presentarsi fra di loro e questa seconda in realtà dava delle indicazioni ben precise. Abbiamo dato loro tre domande. La prima è che quadro del museo serve per descrivere come stai passando questo periodo di quarantena? La seconda è che quadro del museo riflette il luogo dove ti piacerebbe essere in questo momento? E la terza è in quale quadro del museo vi piacerebbe perdervi in generale. Questo perché? Perché i ragazzi innanzitutto affrontano, come ho indicato qua lato, un'attività di ricerca autonoma tra le collezioni del museo. Abbiamo bisogno che quanto prima noi per lo svolgimento del progetto siano autonomi nel collocare i quadri che hanno scelto all'interno del periodo storico, all'interno della zona museale in cui sono sono conservati, sono esposti. E come secondo punto abbiamo l'utilizzo e l'interpretazione del materiale trovato. Perché? Perché questa è la prima fase, la fase in cui chiediamo loro di individuare dei quadri che li colpiscano a livello personale, proprio così nell'immediato, sapere quale preferisco, quale maggiormente corrisponda alla descrizione di come stanno passando la quarantena o di dove vorrebbero essere. In realtà è alla finalità solo di scoprire quali in particolare li colpiscano. Chiaramente il passo successivo sarà quello di chiedere loro di approfondire la storia del quadro, quindi di presentarcelo, di parlarci del pittore e inserirlo a livello storico e fare un tipo di presentazione che possa servire da presentare ai compagni in un'attività di peer learning. Quindi è uno scambio anche questo che rientra totalmente sempre all'interno del programma e che permette invece di interagire a livello linguistico per i miei studenti con degli studenti madrelingua di scuola superiore. Per i ragazzi spagnoli di interagire lavorando anche un po' sul proprio amor proprio, sulla capacità di saper fare lezione nella propria lingua madre a studenti stranieri interessati alla pittura spagnola, interessati ad apprendere la lingua spagnola. Quindi c'è proprio questa sensazione di scambio che è molto forte, molto interessante. Quindi sono attività che in realtà sono già un passo che ci porta verso le fasi successive. Anche in questo caso non era prevista, stiamo improvvisando, cercheremo di arrivare avanti il prima possibile. Come stavo dicendo, la cosa a noi utile e che è interessante per lo svolgimento della nostra programmazione del temario spagnolo per la preparazione dell'esame è proprio questo, quello che anticipavo prima. Nella parte dei materiali che ho indicato con questo cerchio abbiamo effettivamente i materiali che posso recuperare e riutilizzare sia come documentazione del progetto finale, se voglio creare un prodotto finale condiviso, sia un ebook, sia una presentazione, sia la mostra interattiva che intendiamo e che intendavamo organizzare a scuola e che ora dovremo organizzare invece sul sito scolastico alternativa, a meno che si riesca a rientrare a maggio e quindi a farla a maggio. La cosa importante però è che il materiale che i ragazzi stessi stanno selezionando rimane a disposizione all'interno dei file e quindi può essere recuperato da loro, da noi, pensiamo al quadro che il ragazzo spagnolo o la ragazza spagnola ha scelto e ha descritto agli studenti italiani, può essere utilizzato in Spagna per spiegare l'esperienza di questo peer learning, in Italia per recuperare il materiale e raccontarlo ai propri compagni, cioè portare la propria tessera di puzzle per creare questa collezione, quindi è un materiale che è poi condiviso a tutti gli effetti. L'altra, il punto 3 che avevo indicato che riguarda la comunicazione, eccoci, i tweening ci dà possibilità di comunicazione anche tra i ragazzi, i miei lo stanno utilizzando, sono molto contenti di questo, abbiamo il forum disponibile per una comunicazione asincrona ovviamente su tematiche precise, però questo ad esempio io lo uso per far sì che loro comunichino tra di loro, in realtà lo dico spudoratamente, lo faccio perché loro parlino di argomenti che riguardano il progetto e che riguardano la programmazione iniziale che avevo previsto, però chiedendo loro di aggiungere sempre tessere di un puzzle, di un discorso all'interno di un forum, loro rimangono in contatto. Noto che da quando siamo a casa, da quando loro sono a casa, questa attività di interazione sia quella sul forum che sia anche la chat che abbiamo organizzato con i colleghi spagnoli già in tre occasioni differenti, la partecipazione da parte dei ragazzi che normalmente non è sempre enorme, in questo periodo è veramente grande perché non credo sia solo perché hanno tempo, sono a casa, perché le alternative le avrebbero, lo sappiamo, ci sono le serie tv comunque, ci sono mille distrazioni in ogni caso, soprattutto proprio nello strumento che noi chiediamo loro di utilizzare, invece no, c'è questo bisogno di interazione ancora più forte rispetto a prima con i compagni, quindi c'è una grande partecipazione nella comunicazione sia nella sincrona che nella asincrona. Ho ancora non moltissimo tempo, quindi passo a spiegare invece come cosa stiamo facendo sui twinning Toscana a distanza. Come ha detto Simona Bernabei durante la presentazione, questo progetto vuole essere uno spazio di lavoro condiviso, condiviso tra docenti, ma tra docenti e studenti anche, per portare avanti una parte della propria programmazione, o tutta o almeno una parte. Anche questo, come dicevo, quando è nato è stato fondamentale, è stato importantissimo perché molti di noi non avevano ancora alternative, non tutte le scuole si erano preparate ad affrontare questa situazione. Chi non aveva ancora, come ho detto prima, i principali programmi come Google Suite o Microsoft si sono trovati effettivamente ad improvvisare. Tutti abbiamo fatto ricorso a Zoom, a Jitsi, a Skype, a molti modi per vedere i ragazzi, abbiamo scambiato un materiale spesso sul registro, registri non sempre pronti ad assorbire la mole di lavoro o i file utilizzati per scambiare il materiale. Quindi insomma la parte iniziale di questa didattica a distanza penso sia stata un po' impegnativa, difficile anche per voi. Qua sui twinning a distanza abbiamo inserito le nostre classi o alcune delle nostre classi. Io personalmente ne ho inserite solo due perché, come dicevo, come ho detto sino ad ora, con le altre grazie a progetti ben strutturati e già attivi dall'inizio dell'anno ho potuto proseguire con la didattica a distanza già autonomamente. In realtà con una di queste ho iniziato un percorso parallelo grazie proprio ai twinning Toscana a distanza, cioè al nostro progetto nuovo del gruppo Toscana. Avevo previsto effettivamente da svolgere in classe una attività di avvicinamento alla scrittura. Siamo in quarta, avvicinamento alla scrittura, in realtà la scrittura in quarta la praticano già e si tratta di avvicinamento ad una scrittura libera, aperta. I miei studenti, non solo i miei, immagino, sono abbastanza pigri quando si tratta di scrivere, disabituati. Per loro la scrittura è una scrittura digitale, è una scrittura spipolata al telefono, digitata al computer, ma comunque non scritta a mano in generale. Quindi mi chiedevo come affrontare l'argomento che avevo scelto, che era l'argomento, avevo intenzione di partire da una scrittura breve per iniziare, esattamente dal racconto breve e dal micro relato, quello che si diceva, è un micro relato in spagnolo, il micro racconto, diciamo. Visto che con questa classe il progetto del museo li porta sulla parte di letteratura, di storia e del collegamento a storia dell'arte con la nostra programmazione, la parte di scrittura ho deciso di impostarla tutta sui quelli in Toscana a distanza. L'ho fatto nel giro di pochissimo, perché? Perché i miei ragazzi sanno, grazie all'altro progetto, sanno già utilizzare i twinning, le varie opzioni che ci sono, il forum, le varie pagine a disposizione, sanno come raggiungere le pagine che io indico, sanno come inserire materiale o raggiungere quello inserito dai compagni. Quindi è stato abbastanza facile da questo punto di vista. Ho dato loro indicazioni precise, per un'attività che per loro era nuova ho fatto un piccolo tutorial con uno screen customatic, gliel'ho caricato tramite youtube, gliel'ho caricato sul registro, l'hanno visto e poi hanno fatto questa cosa, insomma ci siamo un poco arrangiati ma siamo riusciti a farlo. Cosa ho fatto semplicemente in questa fase della programmazione? Ho innanzitutto fatto il classico, quello che si definisce warm up, ho cercato di spiegare le motivazioni e gli obiettivi di questa proposta di lavoro, quindi ho detto loro chiaramente dobbiamo imparare a scrivere, a scrivere dei testi strutturati. So che non vi piace scrivere, vi lancio una sfida. Iniziamo un progetto di scrittura. Per prima cosa dobbiamo ragionare su cosa possiamo e vogliamo scrivere. Quindi ho inserito loro una prima attività in cui introduco la situazione che stiamo vivendo. Eravamo agli inizi di marzo, a casa da pochi giorni, non potevo fare finta di nulla, proporre altri argomenti in quel momento, così come ora ancora in realtà, però soprattutto in quei giorni la loro mente, la nostra anche, era rapita ovviamente dalla situazione. Ci siamo improvvisamente trovati a dover convivere con noi stessi, a perdere l'aspetto sociale che invece ci caratterizza e come dicevo prima caratterizza i nostri alunni, degli adolescenti che sono in fase di formazione, che hanno bisogno di questo contatto quotidiano con i propri coetanei. Quindi ho chiesto loro un'attività molto semplice. Ho chiesto loro di compilare questo piccolo mentimeter per creare una nube di parole. Ho chiesto inserisci le cinque parole, siano esse azioni verbi o sostantivi, cinque parole che indicano le cose che ti mancano di più in questi giorni, proprio per attivare questo aspetto metacognitivo, per ragionare, per affrontare insieme questo momento, insieme. Hanno risposto immediatamente, appena ho messo questo task, è stato affrontato da tutti velocemente, innanzitutto perché mentimeter presenta questa attività molto ludica, ci vuole un attimo, c'è il link, lo faccio dal telefono senza problemi, rispondono e non è assolutamente impegnativo. La cosa alla quale volevo arrivare e alla quale hanno risposto, abboccato tra virgolette, no, a parte tutto hanno risposto davvero volentieri, quando ho avuto la nube di parole come risultato, la parola che si è presentata con maggior numero di risposte, cioè che si è presentata poi con le dimensioni maggiori, cioè è stata quella più scelta, è proprio la parola amici. E quindi io ho scritto sotto la nube di parole, mi piace molto il fatto che, indipendentemente dal fatto che siate continuamente in comunicazione tra di voi, tramite WhatsApp, tramite tutte le tecnologie di cui disponete, la parola più grande come risultato, ossia quella che più vi manca, è la parola amici. Io ho aperto una discussione. Prima ancora, che potessi dire loro, guardate ragazzi, ho aperto una discussione, funziona in questo modo, no, sono apparse. Ecco, qui sono le prime, 17.24, 17.40, 19.33, 19.39, cioè man mano che uno scriveva, appariva tre minuti dopo la risposta di qualcun altro. Il giorno dopo avevo, ovviamente le accorciate per motivi di spazio, ma avevo 16 risposte in 24 ore, su una classe di 22, quindi due terzi della classe ha immediatamente risposto. Cosa gli ho proposto? Una riflessione guidata sulle parole, quindi sul lessico di questa esperienza. Quindi un lessico appunto con una connotazione emotiva. Loro erano consci del fatto, sono tuttora, ci stanno lavorando, consci del fatto che questo lessico ha una connotazione emotiva forte, sono le parole che in questo momento a loro mancano, sono le cose che vorrebbero avere e che non hanno. Quindi sono caricate di un senso forte per loro. Nella seconda attività quindi gli ho portati un passo avanti, ho presentato loro cos'è il micro relato, la cosa che gli chiedo. Ho dato loro la definizione presa biecamente da Wikipedia in spagnolo, gliel'ho detto ovviamente, proprio perché possono trovarla senza problemi, possano trovarla loro stessi senza problemi, hanno una definizione per vedere cos'è, hanno dei link ai principali autori di micro relato e ho presentato loro per invogliarli, per dirgli subito guarda ti sto chiedendo un testo scritto, però guarda che non parliamo di un testo scritto di quelli che conosci tu. E ho dato loro tre esempi con tre possibili declinazioni del compito che gli ho chiesto. Quindi un micro relato con il disegno insieme, non si vede, è piccolo e di Juan José Arreola un esempio dice quando si svegliò il dinosauro era ancora lì. Questo mi hanno detto che è stato quello che hanno preferito, perché dicevano dà la possibilità di moltissime interpretazioni questo racconto e io dicevo certo è proprio quello che voglio che proviate a fare voi. Immaginare cosa è successo prima, cosa succederà dopo, questo è il concetto. Vi ho dato un secondo esempio solo scritto ed un terzo che è un tweet proprio per dire potrete presentarmelo in qualunque forma vi sembri più logico, vi sembri più adatta. Sto finendo, vedo che sono ai miei 40 minuti precisi, sono stato molto bravo e me lo dico da solo. Ho dato infine loro le caratteristiche di quello che è il micro racconto, che sono cinque, molto semplice. Ho ribadito loro, guardate che è la vostra prima esperienza di scrittura di una cosa di questo genere, quindi io non ho aspettative folli, la mia aspettativa è che proviate a farlo, questa è la prima cosa. Ho messo il Padlet a disposizione per inserirlo perché lo sanno usare, non li spaventa, non è un programma nuovo, un'app nuova che li frena un po'. Il compito su Padlet che ovviamente è a disposizione dei compagni e del docente, per me è disponibile per la correzione direttamente, per correggere l'aspetto linguistico che mi può interessare. Per i compagni invece tra compagni il feedback è bello ed è importante perché sono racconti che appunto sono micro racconti, i ragazzi hanno capito immediatamente cosa gli si chiedeva, hanno rispettato i cinque punti. Un'altra cosa che a Cipicchia non si vede per via della dimensione del mio screenshot, il giorno dopo, anche in questo caso io ho solo detto loro guardate che ho messo un nuovo task sul progetto del micro relato e li ho lasciati e ho detto vi dirò poi cosa dovete fare. Mi hanno ovviamente stupito perché io il giorno dopo, a distanza di 24 ore, quando sono tornato sul progetto per decidere un po' come fare, cosa dire di fare, io avevo le solite, non so se sia, non ho controllato se corrispondono gli stessi, ma di nuovo 16 risposte su 22 studenti, quindi di nuovo due terzi della classe hanno immediatamente, automaticamente risposto alla mia richiesta, hanno lavorato insieme e appunto hanno fatto quella che stiamo cercando di fare, che è didattica a distanza. Ho iniziato e lo finiremo presto, ormai gli darò il feedback, gli dirò come si possa ancora correggere, ma hanno fatto ciò che chiedevo, hanno creato un micro relato in spagnolo usando il lessico che si collega alla loro esigenza momentanea, quindi hanno raggiunto esattamente quello che volevo. Quindi didattica a distanza, clausura forzata che abbiamo, i twinning, collegamento con chi è in twinning tra insegnanti e alunni, questo era il senso del mio apporto di oggi con il quale vi lascio e con questa immagine finale che riassume un pochino quello che abbiamo detto ora, malgrado tutto, malgrado la situazione tremenda, pesante che speriamo di terminare il prima possibile, a cosa mi servono i piedi se ho ali per volare? Bella, mi piace questa, spero che vi riconosciate in questo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie Simone, devo dire che il consenso di chi è con noi oggi pomeriggio è particolarmente dalla tua parte e non soltanto per aver rispettato i tempi. Complimenti, è stata una chiacchierata veramente interessante, tra l'altro mi capita raramente di prendere appunti, ero qui che prendevo appunti e probabilmente non solo io, perché ho visto delle colleghe, varie persone che sono interessate al tuo primo progetto e sicuramente anche al secondo. Io volevo evidenziare due o tre cose di quello che hai detto te, poi sicuramente le cose sono molte di più, ma ripeto, se avete domande, se avete riflessioni che volete condividere, lasciatele sul foglio Google Doc. Io trovo molto molto interessante, data la situazione, probabilmente è un tratto che caratterizza il tuo modo di lavorare in assoluto, ma secondo me hai saputo cogliere proprio uno degli aspetti, e sai cogliere attraverso questi progetti uno degli aspetti più nodali di questo momento, cioè il fatto che noi non stiamo facendo delle lezioni normali, non stiamo affrontando un periodo normale e che probabilmente quello che ci chiedono i ragazzi in modo indiretto, diretto è proprio creare e rendere più forte questo legame emotivo con noi, la riflessione che va a toccare delle corde più profonde, oltre al fatto che hanno bisogno di sentirsi insieme, per cui il fatto di essere insieme su un progetto, di sentirsi in contatto, non sentirsi distanziati dalla distanza, ma ravvicinati dalla distanza, questo è importantissimo. Secondo me hai saputo proprio cogliere e andare lì proprio nel punto quello, hai saputo battere nel punto giusto, hai toccato le corde giuste e il lavoro sulle competenze naturalmente, il fatto di dover rinnovare di settimana in settimana la programmazione, forse anche per vedere un po' dove siamo, fare un po' un bilancio anche della situazione, perché all'inizio pareva che fossero due settimane, ma era evidente a tutti che non sarebbero potute essere due settimane e poi sono diventate di più e poi di più e adesso non si sa quanto staremo a casa. Poi questo lavoro di nuovo sulle parole, il lavoro sui quadri è bellissimo, molti dei colleghi l'hanno detto in chat, il lavoro sulla riflessione sulle immagini e a me del secondo tuo lavoro, quindi di quello che fai nel secondo progetto, è piaciuta molto la riflessione sulle parole, le cose che ti mancano di più, la parola amici, io credo che questo è l'attività sul micro racconto, sicuramente complimenti, io penso che me lo riascolterò ho il webinar per mettere a fuoco le cose un po' meglio, visto che quando coordino i webinar ho tante cose che mi distraggono. Grazie, quindi passerei la parola a… io direi che se ci sono delle domande, sì anche Luisella Mori dice me lo riascolterò, perché effettivamente poi sembra che ce la cantiamo e ce la diciamo da soli, ma insomma. Allora, io passerei la parola a Milena, adesso ripeto, scusate me l'ho interrotta, ho visto che non ci sono domande, ma anche se aveste delle riflessioni da condividere o delle richieste o se per esempio vi vengono in mente dei temi che voleste che noi affrontassimo in qualche webinar successivo, noi abbiamo probabilmente anche in mente di farne altri, quindi suggerimenti, non soltanto domande specifiche che sicuramente ci sono. Appena inizia a parlare Milena, io metterò di nuovo il link. Allora, presentiamo adesso, Milena va avanti sullo stesso testo, sulla stessa presentazione, Milena è anche lei, una docente di scuola secondaria di secondo grado, insegna lingua e civiltà inglese all'Istituto Superiore Pietro Aldi di Grosseto e lascio la parola a lei e il titolo del suo intervento è Piattaforme didattiche, una necessità ed una metodologia. Milena è molto impegnata su progetti Erasmus, poi magari, insomma, se hai voglia, anche questo è un elemento importante che per adesso, data la situazione, noi stiamo non accantonando, ma sicuramente al momento è tutto bloccato, ma insomma, nel nostro gruppo ci sono tanti sia docenti che fanno progetti Erasmus, progettisti, ma anche valutatori, quindi, insomma, Erasmus è un'esperienza che ovviamente attraversa tutto il gruppo. Milena, a te la parola e io chiudo il microfono. Grazie mille, Simona, salve a tutti. Sì, visto che è comunque un'attività che ho sempre avuto a cuore, l'Erasmus, e prendo la palla al balzo, insomma, venendoti dietro a questa tua affermazione, perché in effetti, prima di scoprire il mondo dell'Erasmus, di questa didattica a distanza, sono partita proprio dall'e-tweening, che poi ha fatto parte della mia formazione docente e non l'ho più abbandonata. Bene, vediamo di un po' di seminare questa passione e vediamo se riusciamo anche ad avere nuovi fan di questa metodologia. Allora, io entrerei subito nel vivo della trattativa, come diceva qualcuno, e dopo l'intervento più che brillante di Simone e soprattutto con la dimostrazione dei progetti che hanno, in modo così caldo, in modo così completo, dimostrato cosa posso fare sulla piattaforma e-tweening, bene, io mi soffermerò a sottolineare proprio l'importanza della piattaforma didattica, perché se con il problema attuale la necessità di trovare una forma di didattica che sia efficace ed efficiente e spinge a trovare la soluzione più immediata, più fruttuosa, e dall'altro canto procedere con un metodo è fondamentale. Quindi, piattaforme didattiche, il TwinSpace è la piattaforma didattica dell'azione e-tweening, ed è una piattaforma, uno spazio che mi permette di attuare l'e-learning, ovvero questa didattica a distanza, questo apprendimento mediante di TIC e strumenti elettronici, che è caratterizzata da un modello pedagogico di tipo costruttivista, cioè io insegno, apprendo secondo le mie reali necessità, in modo costruttivo, sociale, dinamico, e a volte queste dinamiche di apprendimento e di insegnamento non sono poi così strutturate. Bene, è proprio questa la caratteristica dell'e-learning su una piattaforma didattica, ovvero una didattica che risulta paradossalmente essere più produttiva, più collaborativa e significativa con degli strumenti ancorati ad un contesto che è sempre in via di costruzione, in divenire. Per poter attuare quindi l'e-learning, io ho bisogno di una piattaforma. Ma che cos'è questa piattaforma? È esattamente quella caratterizzata dagli strumenti che Simone ha fatto vedere prima, ed è uno spazio in cui io sviluppo una collaborazione, una condivisione di informazioni, una comunicazione, insomma, tra insegnanti e studenti, sviluppando delle competenze trasversali e quindi sviluppando anche il pensiero critico, lo spirito d'iniziativa, il problem solving, che sono competenze. Lo sottolineo, la sottolineo questa parola perché si pone, come vedremo dopo, oggigiorno, il problema della valutazione e la didattica a distanza, l'uso della piattaforma didattica mi permette di valutare, appunto, le competenze dei miei allunni. Il TwinSpace, quindi, mi dà la possibilità di pianificare, strutturare i contenuti, di presentarli, di sviluppare tutte queste competenze, usufruendo principalmente dei suoi strumenti, che possono essere, appunto, come abbiamo visto, i forum, le TwinBoard, le pagine web. Cosa faccio io con questi spazi, con le pagine web, per esempio, no? Pubblico materiale utile all'apprendimento e all'insegnamento, ovvero file, immagini, video, link a forum o ad altre pagine web di rimando, e posso anche ancorare delle app esterne che mi permettono di organizzare meglio la mia didattica, di renderla più funzionale, più fruibile, meno dispersiva, perché ricordo, l'importante è comunque adottare una metodologia. E come posso integrarle, integrare queste app, questi strumenti? La piattaforma mi dà essenzialmente due modi. O andando a presentare l'app esterna con un embed code iframe, ovvero visualizzo quella che è l'app, tipo, ad esempio, la lavagna di Padlet, così come la vedo nell'app dove l'ho aperta, così caratteristica, colorata, essenziale, essa. Oppure con un semplice collegamento, se non voglio occupare troppo spazio nella pagina web, o perché mi piace strutturare la mia pagina così. Ma quali sono, adesso vediamo nel dettaglio, quelle app più importanti che mi permettono di raccogliere in modo cronologico, magari, ordinato i documenti su cui si basa la mia azione didattica? Ecco, io ho presentato, in modo sommativo, le app un po' più usate nella piattaforma. Per esempio, Padlet, che appunto mi permette di realizzare una serie di lavagne dove posso applicare i miei posti, inserire i miei posti, i miei commenti, i miei link alle immagini e permettere anche uno scambio tra l'unni. Oppure, ad esempio, PictoChart, dove presento e organizzo sempre le informazioni. Treesider, che mi permette anche di eseguire dei sondaggi. Comic Life, se voglio presentare le mie informazioni, come fumetti, rappresentandole tramite i fumetti. Ci sono poi app che mi permettono di creare dei video, delle slide animate, come ad esempio Animoto o Powtoon. E, in modo particolare per gli insegnanti di lingue, usare Bookie, che è un programma che mi permette di realizzare un avatar di mio gradimento, registrare la mia voce e quindi farlo parlare sulla base della mia voce. Quindi, questa potrebbe essere un'applicazione molto interessante per l'insediamento delle lingue straniere. Kahoot e Quizzer mi fanno la possibilità di effettuare dei quiz, quindi di testare le conoscenze in maniera giocosa, come appunto con il gamification, insomma, rendendo più piacevole il quiz, più competitivo e soprattutto basato sull'uso delle TIC, dei telefoni che ci lamentiamo sempre usati durante le lezioni. In questo caso, questi digital tools possono essere anche usati in modo fruttuoso. Infine, abbiamo una lavagna interattiva per chi ha bisogno di appuntare o di scrivere dei passaggi didattici con Liveboard e mi piace spendere una parola di più su questo aggregatore di documenti, test.com, che mi permette, ad esempio, all'insegnante di collezionare video, PDF, file vari in un'unica presentazione che poi sarà di tipo PowerPoint, insomma, multimediale. Il vantaggio è che non sperpero, non pubblico in modo sparso e così magari non cronologico le informazioni che completano un argomento, ma le assemblo su un unico programma e quindi i ragazzi sono avviati in un percorso di apprendimento guidato, diciamo così. Insomma, sono strumenti che possono sicuramente beneficiare, se ben organizzati, ben supportati dalla didattica a distanza, perché i suoi benefici sono appunto un modo eccellente e semplice per facilitare la comunicazione e la collaborazione, trasmettono un messaggio in modo più ricco e completo e gli studenti soprattutto entrano in contatto con le nuove tecnologie, perché a volte risultano essere poco digital natives, un po' impacciati con l'uso delle TIC. Ecco, in questo modo possono smanettare abbastanza per imparare e quindi essere più snelli, più facili nell'utilizzo di questi strumenti e avere una maggiore fruibilità dei contenuti. Ora, perché dicevo prima importante una metodologia? Ma perché è importante una metodologia in una metodologia che fondamentalmente non segue un metodo di insegnamento e di apprendimento, proprio perché è di tipo costruttivista? Perché innanzitutto è bene entrare in un ambiente in cui tutto è organizzato. Abbiamo visto ad esempio i progetti prima illustrati da Simone che hanno appunto un ordine di presentazione e per chi entra per la prima volta in IntuSpace ben organizzato con un percorso molto chiaro, essenziale, è facile lasciarsi coinvolgere e soprattutto andare ad ottemperare a tutte le attività, quindi non lasciarsi sfuggire nessun passaggio e procedere assolutamente in modo ordinato. Quindi una struttura organizzata e chiara rende più semplice coordinare le attività e contribuire in modo fruttuoso al progetto, proprio perché io posso anche dare la possibilità a stakeholder, come dei genitori, dirigente scolastico, colleghi, se rendo visibile il progetto, osservare come se fosse una vetrina il lavoro che viene condotto sul TwinSpace. E questo permette sicuramente di presentare una didattica collaborativa, produttiva e significativa dal punto di vista dell'apprendimento. Ma attenzione, non bisogna eccedere nella pianificazione, intendo in una scaletta rigida dove si devono necessariamente andare ad ottemperare tutti i punti presentati, perché il progetto, la didattica a distanza insomma, e la progettazione, la progettolità di questo tipo di didattica, è un work in progress ed è caratterizzato dalla flessibilità. Perché? Perché il tempo pone dei cambiamenti, quindi ridimensiona tutto e riadatta le attività previste, per cui bisogna essere preparati a cambiamenti ed essere pronti appunto ad attuarli, a rispettarli. Arriviamo al punto, alla nota dolente. Ecco, io come valuto i miei ragazzi, il mio gruppo in queste attività? Bene, in questi tempi si parla di valutazione, non valutazione, posso valutare, non si vede soltanto la partecipazione dei ragazzi, eccetera. Però effettivamente i ragazzi hanno bisogno di un feedback positivo o negativo in base a quello che stanno conducendo. Quindi hanno il diritto gli alunni di sapere se hanno fatto bene, se stanno facendo bene. E come dicevo prima, la didattica a distanza è una didattica che è caratterizzata essenzialmente dalle competenze. E competenze significa azione, sapere agito, sapersi confrontare in gruppo, sapersi lavorare in gruppo e anche saper confrontarsi in ambienti più ampi e diversi. Queste sono le competenze che caratterizzano l'azione a distanza, la didattica a distanza. Per cui quello che noi possiamo sicuramente valutare è come usano gli strumenti, questi ragazzi, e cosa dimostrano di saper fare, ovvero il lavoro, la proprietà lessicale, come hanno approfondito determinati argomenti, l'efficacia comunicativa, orale, multimediale e l'autonomia nell'uso delle TIC. Quindi sono tutte competenze che portano a sottolineare le conoscenze trasversali legati al pensiero critico, alla creatività, a uno spirito di iniziativa e di problem solving, ovvero competenze che sviluppano e sono tipiche della cittadinanza digitale. Insomma, valutare è un lavoro davvero difficile, molto difficile in questi tempi, ma necessario, perché comunque i ragazzi stanno attuando un lavoro organizzato, un lavoro partecipato e l'istruzione, che deve essere comunque inclusiva, deve valorizzare questi loro sforzi e deve garantire agli studenti il diritto all'appartenenza a un gruppo e a non essere esclusi, perché tramite la piattaforma didattica io imparo in modo collaborativo, in modo sociale, random, ovvero in base alle effettive esigenze, quindi come la didattica costruttivista vuole, proprio per vantaggiare non solo me stesso il mio sapere, ma proprio la collettività, su cui si basa questo tipo di apprendimento di didattica. Ecco, a me è piaciuto concludere questa mia presentazione con questa riflessione, la seconda che vi si propone riguarda appunto un proverbio cinese, che dice che imparare è come remare controcorrente e se smettiamo torniamo indietro e questo non ce lo possiamo proprio permettere. Grazie. Grazie mille Milena, allora io un paio di cose, poi c'era anche una domanda e poi vediamo, abbiamo ancora un pochino di tempo, possiamo aprire alle domande se ce ne sono. Volevo mettere l'accento ovviamente sulle competenze e credo che mai come in questo momento sia necessario capire che la lezione trasmissiva col docente al centro e lo studente che ascolta sia non solo inefficace ma oltretutto estremamente faticosa per noi. Sulla base della mia esperienza e diciamo che da qualche tempo lavoro con la distanza l'uso dello strumento non mi crea fatica, non mi crea sforzo particolare a parte l'uso massiccio della voce quando chiacchio in continuazione, però mi rendo conto che per strutturare una lezione a distanza c'è bisogno di metterci dell'altro e soprattutto molto tempo ed energie. Trasformare una lezione dalla presenza alla distanza mette in campo una serie di difficoltà e elimina l'aspetto proprio di vicinanza fisica, quindi l'interazione e anche i tempi dell'interazione fra noi e gli studenti. Però deve restare fermo sicuramente, credo che su questo concordiamo, l'aspetto del focus sulle competenze. L'aspetto dell'inclusività e della collaborazione credo che al di là di tutto siano due aspetti fondamentali. È secondo me un concetto che va sempre sottolineato e risottolineato e che ai ragazzi va spiegato secondo me delle volte anche perché in realtà poi non sempre la scuola insegna loro che la rete è vincente, non sempre insegna loro che la rete serve non solo per aiutare l'altro e quindi, oddio, sto aiutando l'altro, ma che non andrebbe neanche male, proprio come concetto. Ma attraverso la collaborazione con l'altro noi rinforziamo noi stessi, ci potenziamo, mettiamo in evidenza attraverso i nostri punti di forza e i punti di forza dell'altro, i punti di forza di tutti, insomma tutti si avvantaggiano da questo tipo di circolarità, per cui credo che… insomma in certi casi io vedo che mi guardano un po' con l'occhio traversato quando dico queste cose, soprattutto i colleghi, ma anche tanti ragazzi, però insomma è molto importante insegnare loro a lavorare così, perché poi nella vita ci si trova in realtà in cui lavorare da soli, isolati ormai non è più sufficiente, perché siamo arrivati a un livello di competenze e di specializzazione tale che non siamo più sufficienti noi con le nostre competenze specifiche a coprire tutto quello che c'è bisogno di coprire. Detto questo, io andrei a dare un'occhiata, dunque intanto giro a Milena e nel frattempo chiedo a tutti quanti, io ho voglia anche di intervenire per iscritto, di fare una domanda, gli posso attivare il microfono, c'è una domanda, una domanda, una questione che poneva Manuela che diceva, aspetta perché Manuela ha scritto qui, un attimo solo, scusate perché devo ricostruirlo a meno che lei non l'abbia messo sulla… dunque Manuela diceva quanto si deve correggere, si deve lasciar correre, se la comunicazione passa, suppongo… io le avevo chiesto se fosse riferito all'aspetto linguistico, suppongo di sì, chiedo conferma a Manuela se si stesse riferendo a quello e poi dice un'altra cosa, ti chiederei magari sia, chiederei a tutte e due di intervenire perché siete entrambi docenti di lingua straniera, quindi tutte e due potete, se volete dare il vostro contributo. Lascio la parola a Milena e poi magari a Simone. Sì, allora io di pancia mi verrebbe da rispondere come mi hanno sempre insegnato durante i corsi fatti all'estero, insomma, che il metodo italiano di correggere in modo, parlo innanzitutto riferendomi allo scritto per esempio, in modo vistoso con questi segni rossi e trascritti che vanno poi a sostituire il testo dello studente, è poco motivante, deprimente. Correzione sì, con discrezione, usando anche un po' di empatia con i ragazzi e lasciandolo all'inizio, se lo sto valutando dal punto di vista orale, parlare per poi andare a puntare l'attenzione su una insistenza di pronuncia, per esempio, errata e quindi correggerla, sempre comunque con un modo soft per non deprimere, per non demoralizzare il ragazzo. Ecco questo. Non so se ho risposto... Credo di sì, credo di sì. A quello che effettivamente è stato chiesto, insomma. Signora invece a questo proposito vuoi aggiungere qualcosa? Io non ho una risposta ufficiale, correggere sì o correggere no, dipende dal lavoro che gli chiedo, cioè nel momento in cui gli altri partecipanti al progetto sanno che i miei ragazzi stanno imparando lo spagnolo, soprattutto se è un progetto come in questo caso solo con scuole spagnole, quello del museo, dico voi sapete che vi potete permettere degli errori, non c'è nessun problema, quindi i più gravi li ricorrego e dico ma attenzione, questo lo sai come ti è scappato, c'è una svista, cioè su quello li corrego, per il resto se vedo cose non gravi, non importanti, i famosi accenti in spagnolo ogni tanto si li perdono o con la tastiera italiana non riescono a metterli acuti e li mettono gravi, insomma non è un problema, in quel caso lascio che mettano, loro sanno che, i loro compagni sanno che hanno a che fare con dei ragazzi che studiano, che si esprimono in una lingua straniera. Quando ci sono anche altri ragazzi che sono italiani e studiano lo spagnolo, motivo in più gli errori ci possono scappare, vengono segnalati comunque tra di noi per il feedback, per correggerci, però se do loro l'autonomia di interazione nel progetto non posso poi andare a dirgli no, allora cancella il tuo post perché hai fatto un errore veramente che non si può guardare, se ne assumono le responsabilità, gli dico, occhio la prossima volta stacci attento, ma così insomma. Spero di aver risposto. Sì, sì, sicuramente, ti ringraziano dalla chat. Dunque, io darei ancora qualche secondo, vediamo se c'è qualche domanda, vi ricordo che questo webinar sarà registrato, cioè è registrato, quindi sarà, se tutto va bene, online fra un paio di giorni e per online intendo il canale YouTube Twin in Toscana e quindi potrete riascoltarlo se vorrete e potrete anche condividerlo. Per quello che riguarda invece gli appuntamenti futuri, vi abbiamo detto che noi via via li condividiamo, vi è arrivata una comunicazione da parte dell'ufficio scolastico regionale e condividiamo anche, dato che il momento è anche un momento in cui, come si diceva, non solo nella didattica, ma anche nella programmazione dei nostri eventi live andiamo in corso d'opera. Rispondo anche in merito all'attestato di partecipazione, stiamo studiando questa cosa perché il nostro ufficio scolastico regionale, secondo la normativa, fino adesso è anche noi, quindi ci siamo tenuti sull'attestazione da parte delle firme, quindi le firme vengono depositate presso la scuola Polo, che è la scuola centro di costo e l'attestazione, quindi l'autocertificazione della partecipazione agli eventi fa fede, secondo la normativa. stiamo studiando una soluzione in aggiunta perché capiamo anche che l'attestato sia qualcosa che oltretutto fa anche piacere avere, quindi vi faremo sapere, sicuramente alla fine di questo ciclo. In ogni caso voi, se siete state presenti, mi raccomando di lasciare la vostra firma sul foglio, perché sì, il foglio firme è quello che abbiamo linkato via via per tutto il webinar e adesso magari chiederei a Riccardo che ringrazio di linkarlo sotto in modo che anche chi non ha visto possa mettere la propria firma. Sono le 17.55, io vedo che nel frattempo non sono arrivate domande specifiche, quindi allora vedo che non arriva il link al foglio firme, eccolo perfetto, Maria Beatrice se vuoi puoi, anzi ti invito a farlo, grazie Riccardo, firmare sul foglio il cui link vedi qui alla fine della chat. Io penso che possiamo salutarci, se i relatori hanno qualcosa da aggiungere volentieri cedo loro il microfono, altrimenti lo passo comunque a loro per un saluto, quindi passerei in ordine cronologico il microfono prima a Simone per un saluto. Ecco che ho il microfono disattivato, grazie a tutti, buona didattica a distanza, buon proseguimento a tutti, grazie. Grazie a te Simone, Milena. Buona serata a tutti, buona didattica a distanza anche a voi e mi raccomando sfruttate gli strumenti twinning che sono sempre assistiti rispetto ai nuovi profeti odierni. Grazie ancora per averci seguito, buona serata. Grazie. 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 Grazie.